Sono morti, l'hanno confezionato. Sono morti. Questo è vivo. Dove vive? Gioia mia. Ma perché? Gioia mia. Ma perché sono morti? Questo è morto. Ma no. Morto? Sì, è congelato. Gioia mia. Mi ha messo pure la borsa. Che c'è in testa? Ora mangiare, ora mangiare. P embrace.» Dovente questa Piece. P Mah Kids. Chiaventatrice. Trappastataittata da Campina. Di casa. Grazie.